Una consultazione per chiedere l'opinione degli abitanti del quartiere Umbertino in merito al trasferimento della scuola dell'infanzia di via Firenze nei locali riqualificati di via Napoli. Secondo i piani dell'amministrazione comunale, la scuola alle mie spalle diventerebbe una struttura ricettiva. La consultazione si svolge fino a domani al centro civico di via Castelfidardo, ma c'è chi non è d'accordo sul metodo e auspica una vera partecipazione aperta ai cittadini. Scuola dell'infanzia di via Firenze, si parla di una chiusura. Qual è il futuro di questa scuola? Quello che è certo è che il futuro non dovrebbe essere deciso da una falsa partecipazione basata su una disinformazione dei cittadini, non perché i cittadini siano stupidi, ma perché per poter capire tutti i risvolti in una vicenda, peraltro abbastanza complicata, come il perché un asilo verrebbe chiuso, alienato e trasformato in ostello dei bambini trasferiti. Tutto questo, ripeto, va valutato, va valutato non sulla base dei soldi, sulla base delle idee. L'idea è giusto alienare un asilo per farlo diventare un ostello, che è una struttura comunque commerciale, perché sarà gestita da qualcuno. Su questo si dovrebbe esprimere il quartiere, se parliamo di partecipazione, ma il quartiere andrebbe giustamente informato. In 4-4-8, come è stata fatta una consultazione in questi due giorni, secondo me andranno a votare solo le persone che verranno o trascinate a votare dagli amici che pensano di saperne di più, o comunque non ci sarà un voto consapevole. Si è spaccato un quartiere. A proposito di false informazioni, ha girato in questi giorni un volantino che diceva che questa scuola diventerà un ostello che ospiterà migranti. Mi sono trovato nella cassetta della posta un volantino che ha circolato, dove si parla che diventerebbe un ostello per i migranti. Ora, questo nessuno l'ha mai detto e credo non sia nei progetti dell'amministrazione. Poi gli ostelli possono diventare nel tempo tutto quello che sappiamo e che vediamo in tutta Italia. Però non si può fare le ipotesi e terrorizzare con le ipotesi. Allo stesso modo non si può però pensare che questo quartiere sia favorevole all'inunzione di un asilo perché si chiamano a votare delle persone che hanno avuto un'ora in una riunione con un assessore, peraltro senza controparte e l'assessore ha detto il suo perché vorrebbe fare questa cosa. Non è questo il percorso.